Ciao ragazzi, questo è il Consolato Generale di Svizzera a Milano e ora vi farò vedere come votare. Per votare dovrete compilare questo modulo di voto. Se non avete mai vissuto in Svizzera, allora bisogna compilare la prima pagina e l'ultima. Nell'ultima inserire il vostro luogo d'origine e la lingua in cui volete ricevere i materiali di voto, la data e la firma. Se avete vissuto in Svizzera invece, dovete compilare la prima pagina e la seconda inserendo il vostro ultimo domicilio. Riceverete poi tutto il materiale direttamente a casa e lo rispetterete in Svizzera.